Cari fratelli e sorelle nerazzurre, sono Don Gigi Inter, come vedete ho in mano il Vangelo, ma è il momento, ahimè, di lasciare un attimo il Vangelo e andare su qualcosa di meno importante, diciamo, ma anche importante, e cioè lo Sport Week, perché inizia il campionato, questa sera giocherà la nostra amata Inter e quindi andiamo a fare una preghiera particolare per i nuovi giocatori che sono arrivati appunto all'Inter, eccolo qui, attacco al potere, attacco al potere, scrivono loro attacco al potere la nostra Inter, andiamo a vedere la nuova rosa dell'Inter e facciamo una preghierina per ciascun giocatore, Samira Andanovic para per noi, quando a Zamoa corri per noi, Stefan De Vrij difendi per noi, Diego Godin vedi di guarire un po' la svelta perché devi difendere per noi. Proseguiamo con Danilo D'Ambrosio difendi per noi, visto che Conte lo vede difensore, quindi Dalbert vai alla Fiorentina per noi, facci questo favore, Ranocchia sta in panchina a fare il bravo, tranquillo, sta in panchina, Milan Skriniar ferma tutti per noi, Niccolò Barella corri per noi, Marcello Brozovic inventa per noi, eh sì ci vuole, Antonio Candreva fai qualcosa di buono almeno quest'anno con Conte perché non ne possiamo più, Roberto Gagliardini quando serve gioca bene, quando serve, se no stai in panchina, Valentino Lazzaro sei appena arrivato ti sei già rotto, quindi già ti chiami Lazzaro, resuscita e corri, Stefano Sensi crea per noi, lui crea gol e azioni, Mattia Svecino segna qualche gol in più per noi perché segni solo in una portita su dieci, quindi qualche gollettino in più segnano per noi, Romelu Lukaku segna ventino gol per noi, visto quello che ci sei costato e Lautaro Martinez segna per noi. Bene cari fratelli e sorelle nerazzurre, dopo aver fatto una presentazione veloce non di tutti i giocatori ma di quelli principali, andiamo alla preghierina che ho preparato come sempre per la nostra amata Inter, quindi come sempre mi tolgo il cappello in vista della partita di questa sera con il Lecce che si spera almeno con Lecce di non dover soffrire come con l'Empoli all'ultima giornata, andiamo a leggere la preghierina che ho preparato per il Signore. Padre nostro Inter che sei nei cieli nerazzurri, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter, se poi fosse come nel 2009-2010 sarebbe molto bello, ma va bene anche uno simile. Per quest'anno, noi sottolineo per quest'anno, ti chiediamo umilmente e nuovamente, visto che te lo chiediamo ormai da due anni, di farci arrivare, già sarebbe una cosa buona e giusta, ad una tranquillissima, e sottolineo tranquillissima, qualificazione alla prossima Champions League con qualche giornata di anticipo e senza patemi come negli ultimi due anni che a momenti ci viene a tutti un coccolone e di farci vincere magari sempre nella tua, nella tua, mettici l'articolo che vuoi, l'aggettivo che vuoi, sempre nella tua, di farci vincere una coppettina qualsiasi, che non sia però la coppa del nonno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, ma soprattutto fai vincere l'Inter. Dacci oggi la nostra vittoria settimanale, tanto per iniziare subito bene il campionato e difendici dalle gufate dei cugini milanisti, e non solo loro, che hanno cominciato molto ma molto male la stagione avendo perso con l'Udinese e magari sperano di portarci sfortuna con i loro amulettini. Non ci indurre in Serie M, ma liberaci dalla sconfitta e dal pareggio contro il Lecce. Anche se è la S-squadra del nostro nuovo allenatore Antonio Conte, gli auguriamo di iniziare a fare punti da settimana prossima. Per questa sera stiano tranquilli, acuccia e stop. Detto questo, cari fratelli e sorelle nerazzurre, il nostro momento di raccoglimento è terminato e potete andare in pace. Ah, naturalmente rinnovo come sempre il consiglio che vi sto dando dalla scorsa stagione, ma che è sempre valido e magari durante le vacanze ve ne siete anche dimenticati e magari vi è scappata anche qualche parolina che non dovevate dire. Quindi vi riscrivo il piccolo suggerimento per evitare, qualora ci fossero errori sia dei nostri giocatori che arbitrali, visto quello che è successo con Abisso, non vorremmo avere un altro Abisso, di inveire o dire cose sconvenienti, ma soprattutto in caso appunto di errori arbitrali, che nonostante il VAR possono accadere lo stesso, vi invito nuovamente a usare il metodo di padre Pedro, alias Baspencer, imporgi l'altra guancia, che è il seguente, che probabilmente vi siete dimenticati perché ormai ve l'avevo detto tre mesi fa. San Camillo, San Camillo, fammi stare un po' tranquillo. San Tommaso, San Tommaso, or mi viene la mosca al naso. San Clemente, San Clemente, fai che sia molto paziente, che se perdo la pazienza devo fare penitenza. Bene, detto questo, cari fratelli e sorelle Nelazzurro, speriamo che il Signore, nella sua infinita bontà, guardi giù, anche se mi auguro che non ce ne sia bisogno, visto che giochiamo contro una neopromossa, e ci vediamo la settimana prossima. Amen. Andate in pace.